Che aspettative ci sono su Verona, Iov e Chioggia? Beh, ottime, tre cavalli di razza, lo posso dire, tre cavalli di razza e quindi ancora sanità in prima linea, sanità leader a livello nazionale, continueremo con qualità e risposte ai cittadini. Su Verona in particolare quali sono le aspettative? Beh, il dottor Cobello ha un'ottima professionalità, un grande rapporto con l'università, ringrazio il magnifico rettore, il professor Sartoro, per questa nomina che abbiamo condiviso assieme e che ci permetterà di far crescere ancora di più Verona. Iov. Guardi, non è un insegno, è un biglietto da visita. Per noi è la rete oncologica Veneta, il nostro centro tumori, crescerà sempre di più, l'ho affidato al dottor Mantohan che saprà riconsegnarmelo, ristrutturato dopo questo anno di lavoro. Chioggia assolutamente non in secondo piano. Chioggia è per noi la continuità con Venezia e provane sia che il direttore generale, il dottor Dal Ben, seguirà ancora una volta Venezia e Chioggia. Ha acclamato a furor di popolo e che vuol dire che ha fatto bene, ma i risultati si sono visti. In tema di sanità, che prospettive ci sono per Padova? Beh, prospettive ottime, visto che confermiamo l'ospedale, si conferma il finanziamento e vogliamo procedere su questa strada. Padova avrà il suo Policlinico Universitario.